Hanno tagliato degli alberi e bloccato le vie di accesso, poi con un'auto utilizzata come ariete hanno sfondato la porta d'ingresso e si sono introdotti all'interno dell'azienda. Colpo questa notte alla Jessica Jewels, una azienda che opera nel settore dei metalli preziosi e che si trova a Ponticino, nel comune di Laterina per Ginevaldarno. Cose che ti svuotano, dopo tutte le difficoltà oggi per fare impresa che esistono in Italia, perché in Italia oggi fare impresa è diventato un'alchimia. Poi quando succedono questi sinistri qua, tolgono oltre che i capitali dentro le aziende, tolgono anche la forza, la voglia. A parlare all'esterno dell'azienda è l'amministratore delegato Marco Benedetti ancora scosso da quanto è accaduto durante la notte. I malviventi, oltre ad aver messo i grossi tronchi di albero come sbarramento nelle vie di accesso, hanno anche tagliato i fili dell'illuminazione esterna e girato verso l'alto le telecamere di sorveglianza. Il colpo è stato messo su alla perfezione da gente che è esperta. Qui secondo me non è il primo che viene fatto da Rezzo e io mi auguro che sia l'ultimo, ma ho il presagio che non sarà l'ultimo. Una volta all'interno sarebbero stati almeno in tre a volto coperto. Secondo le prime indiscrezioni, hanno fatto saltare in aria la cassaforte e portato via i preziosi. Il bottino rimane da quantificare, il valore sarebbe di alcune decine di migliaia di euro. Qui siamo di fronte di nuovo a una nuova ondata che andrà a mio avviso in qualche modo fronteggiata senza aspettare che poi questo risucceda di nuovo.